Musica Risorse economiche per le famiglie in difficoltà, più connettività e aiuti per la didattica a distanza. La Regione Toscana, vicino alla scuola, è in aiuto agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti per superare insieme la crisi e l'emergenza portata dall'epidemia di Covid-19. La Regione Toscana, l'assessore all'istruzione Alessandra Nardini, ha lavoro sui principali nodi della scuola attraverso il dialogo, il confronto con le parti interessate, con riunioni, con gli operatori scolastici per interventi mirati alla lotta al coronavirus e combattere ogni disuguaglianza nella scuola. Ci tengo davvero a ringraziare i ragazzi, i ragazzi, le insegnanti, le famiglie per lo sforzo che stanno compiendo e che hanno compiuto in questi mesi. Ci troviamo ad affrontare un'emergenza sanitaria dovuta a questa pandemia che sicuramente è di difficile gestione. La scuola purtroppo è tra i settori più colpiti. Noi stiamo lavorando in Regione Toscana e abbiamo lavorato affinché la scuola potesse essere un luogo sicuro, affinché le lezioni a inizio anno scolastico potessero iniziare, ovviamente tenendo ferme il rispetto delle regole che sono doverose e che ci consentono di fermare il contagio. Noi abbiamo lavorato, finché abbiamo potuto, per tenere le scuole in presenza perché sappiamo bene che la qualità della didattica in presenza è sicuramente superiore e sappiamo anche bene che i nostri ragazzi hanno bisogno di quella socialità che si respira all'interno delle classi, tra i banchi scolastici. Sappiamo altrettanto bene però che quando i dati non ce lo hanno più consentito, il quadro epidemiologico ha reso necessarie le misure più drastiche che si sono dovute adottare. Lo abbiamo fatto per salvaguardare la salute pubblica, per salvaguardare il nostro sistema sanitario che sta subendo uno sforzo notevole e ci tengo a ringraziare anche tutto il personale sanitario che ha impegnato quotidianamente nella gestione di questa emergenza sanitaria. Con l'ultimo DPCM, la Toscana in zona rossa, anche gli studenti di seconda e terza media seguono le lezioni da casa con la didattica a distanza come quelli delle superiori. Solo i bambini dell'infanzia, delle elementari e gli studenti di prima media continuano ad andare a scuola. Noi l'impegno che dobbiamo mettere e dobbiamo farlo tutti è quello di ognuno fare la propria parte affinché prima possibile si possa venire fuori da questa situazione proprio perché vogliamo far tornare i bambini, le bambine, le ragazze e i ragazzi nelle loro classi a fare lezioni insieme ai loro insegnanti, insieme alle loro compagni e ai loro compagni. Su questo noi abbiamo un faro che è quello di far sì che questa emergenza non vada ad acuire le zuguaglianze economiche, sociali e territoriali che ancora persistono. La scuola deve essere un luogo di opportunità per tutte e per tutti e non il luogo dove i divari invece aumentano e questo è l'obiettivo che guida ovviamente il nostro operato a livello regionale. L'impegno della Regione e dell'assessorato all'istruzione è quello di combattere qualsiasi disuguaglianza che possa tradursi anche nelle difficoltà degli alunni nel seguire le lezioni a remoto. Nella prima ondata di Covid la Regione aveva stanziato 500.000 euro per sostenere gli studenti e le scuole per poter accedere alla didattica a distanza, misura che sarà rinnovata, ma adesso la Regione punta anche alla connettività. Questa misura sarà rinnovata ma a questa affiancheremo, lavorando in sinergia con l'assessore Stefano Cioffo che è la delega alle infrastrutture digitali, proprio sulla connettività delle nostre scuole perché questo è un altro elemento importante. Quindi stanzieremo ulteriori risorse su questo proprio perché non vogliamo lasciare indietro nessuno. Nessun ragazzo, nessuna ragazza, nessuna famiglia dovrà essere abbandonato nella gestione di questa situazione e la didattica a distanza deve essere un'opportunità per tutti e non solamente per alcuni. Quindi su questo ci stiamo impegnando, ovviamente monitorando, noi stiamo raccogliendo le informazioni riguardo anche appunto alla connettività e alle criticità che si registrano in alcune scuole, lo stiamo facendo in sinergia con l'ufficio scolastico regionale, proprio perché vogliamo andare ad intervenire laddove ci sono criticità e provare a risolverle. Inoltre, ribadisce l'assessore Nardini, l'impegno è anche quello di garantire l'effettiva inclusione di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento, anche e soprattutto nell'emergenza Covid. Noi abbiamo lavorato come Regione Toscana per far scendere il tasso di abbandono scolastico e dispersione scolastica e vogliamo continuare a impegnarci su questo. Noi non vogliamo che questa emergenza sanitaria purtroppo invece farci tornare a crescere quei numeri e su questo stiamo lavorando e continueremo a farlo, ovviamente in sinergia anche con gli enti locali, con i rappresentanti dei comuni, delle province. Ci tengo davvero a ringraziare insieme a loro, insieme all'ufficio scolastico regionale, insieme ai sindacati, tutti coloro con cui in queste settimane ci stiamo confrontando. Io ho trovato uno strumento che è quello del cantiere scuola, che è fondamentale proprio per condividere, concertare le azioni intraprese per confrontarci sulle criticità e per insieme lavorare per risolverle. E per andare ulteriormente in aiuto alle famiglie che sono in difficoltà e in crisi, la Giunta regionale ha previsto nuove risorse per il pacchetto scuola che prevede 300 euro a testa per 38 mila studenti toscani. Finanziate tutte le domande grazie ad una variazione di bilancio da 2,5 milioni di euro. Noi nella variazione di bilancio andiamo a aumentare le risorse di 2 milioni e mezzo perché quest'anno sono state superiori il numero di richieste che abbiamo ricevuto, sono circa 8 mila in più le domande che ci sono arrivate e quindi per poter garantire i 300 euro massimi che davamo negli scorsi anni alle famiglie abbiamo voluto aumentare le risorse con ulteriori 2 milioni e mezzo rispetto agli stanziamenti precedenti, proprio nell'ottica di dare sostegno alle famiglie e garantire davvero un diritto che è il diritto fondamentale all'istruzione a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze e soprattutto aiutando le famiglie che sono più in difficoltà. Il pacchetto scuola serve a sostenere le famiglie per spese come l'acquisto dei libri, degli abbonamenti ai mezzi di trasporto e altri sussidi didattici. È destinato agli studenti delle scuole medie e delle superiori con ISEE inferiore e 15 mila 700 euro. La Toscana si è fatta anche promotrice della richiesta di svolgere in presenza le attività pratiche dei laboratori, dei corsi di formazione professionale, come già accade per le superiori. Per questo l'assessore Nardini ha scritto una lettera al presidente Stefano Bonaccini per chiedere che la conferenza dei presidenti delle regioni sottoponga al governo questa criticità. Non c'era un riferimento nell'ultimo di PCM, abbiamo chiesto su questo un chiarimento, l'abbiamo inserito in un'ordinanza regionale dicendo che ovviamente per la formazione professionale ci sono parti in presenza che sono assolutamente necessarie e non è possibile erogarle a distanza, penso all'attività dei laboratori, agli stage ai triocini, così come avviene, così come è specificato correttamente nel DPCM rispetto alle scuole e rispetto anche all'università. Abbiamo quindi esteso questa possibilità anche ai percorsi di formazione professionale, è una richiesta che c'era stata segnalata davvero da tante realtà del nostro territorio e poi in quanto coordinatrice della nonna commissione ho anche portato questo a livello nazionale, ne abbiamo dialogato insieme agli altri assessori regionali competenti e abbiamo poi, devo dire, condiviso la linea che era la linea partita dalla Toscana e che è diventata poi la linea e la proposta di tutte le regioni italiane e quindi questo ovviamente non può che vederci soddisfatti, abbiamo quindi chiesto al Presidente Bonaccini in quanto rappresentante di tutte le regioni di esprimere questo nostro pensiero e questa nostra posizione e richiesta al Governo nazionale. Grazie 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 Grazie